Rosso è andato Siamo lì e ancora tutto dipendendo E quello è importante Adesso sabato forse si presenterà I palovibri di Varona in Cagliari Una formazione che non sta certo attraversando un momento No, però io sono convinto che loro verranno E che sarà una partita durissima Perché noi abbiamo speso tantissimo Contro il 1 sabato Martedì Ancora di più Adesso dobbiamo giocarcela Loro invece si sono riposati Perché non hanno giocato il martedì Perciò sarà dura E dopo Cagliari Proviamo a proiettarci Un altro big match Dopo Venezia si va in casa di Asti Ci chiuderà là il 2009 Esattamente, però prima dobbiamo pensare Certamente a vincere Cagliari Quello per noi è fondamentale Dopo andremo certamente A Asti ancora a vincere Come abbiamo fatto sempre quest'anno Come ultima ti chiedo A inizio campionato Se ti avessero detto che dopo 11 giornate Verona sarebbe stata in testa la classifica Con due lunghezze di vantaggio Ci avresti scommesso Oppure è una sorpresa che per te questo piazzamento? No, penso Una bella sorpresa per tutti Però che comunque Io sapevo la squadra che abbiamo Sotto la squadra che abbiamo E ero fiducioso Penso come tutti quanti E comunque a Venezia Io che c'ero Insomma la qualità di Venezia Insomma non possiamo certo Paragonarla quella di Verona Beh, meglio Non parlo delle altre squadre Parlo della nostra Una grande squadra E' un strato di essere all'altezza Con tutte quanto penso Grazie Grazie Buon legamento Grazie Grazie